Con l'inizio del trentesimo anno di attività, Imperia TV è lieta di presentare nel proprio palinsesto una nuova trasmissione, condotta in studio da Jackie De Luca. Spero che poi non ce l'avrai con me, non sono io l'immagine che hai di me. Mi presento, sono Donna, ti aiuterò a dare un nome al dolore, a riconoscere gli stati di autorevolezza malsana che vivi all'interno delle mura domestiche e percorreremo insieme la strada per uscire dalla tua violenza coniugale. Ascolteremo le testimonianze di chi è andato oltre il dolore, parleremo di vita, autostima, crescita personale e lo faremo con un life coach e counselor internazionale, Tiberio Faraci. Ma nel nostro primo appuntamento ci sarà una testimonian d'eccezione, Veronica De Laurentiis. Veronica racconterà la sua storia personale, la storia di violenza familiare ma anche la sua rinascita. Ed io vi aspetto rigorosamente su Interia TV. Dal 15 dicembre, ogni martedì alle 21, Jackie De Luca conduce Mi presento, sono Donna.